Confronto chiesto da Cristina Scaletti con lei e con gli altri candidati, ci sarà dunque? Non c'è bisogno che lo chieda qualcuno, io ho sempre dato la disponibilità. Capisco che ciascuno dei nove candidati vorrebbe un confronto solo con me per avere un po' di visibilità. Io lo darò a tutti quanti. Il filo conduttore di questa campagna elettorale è tutti contro Nardella, nove contro uno, però dei nove vogliono tutti andare al ballottaggio. Io vorrei vincere e tra l'altro penso che sia venuto il momento di dire basta alla vecchia politica, di chi vuole andare ai ballottaggi per poi trattare qualche poltrona per andare in giunta o in consiglio comunale. Noi siamo per una sfida vera e il confronto con tutti i candidati ci sarà, ovviamente dieci candidati sono tanti, spero che i fiorentini sappiano distinguere perché la scelta è tra due grandi idee. Da un lato chi vuole continuare il lavoro buono, positivo di questa città perché ritiene che in cinque anni Firenze sia migliorata rispetto al passato e chi invece vuole tornare a fare il referendum sul passato, dice no a tutto, vuole fare tutto il contrario di prima, senza però avere uno straccio di progetto in mano. L'unica cosa che si vede dall'altro lato è che sono tutti contro Nardella, tutti vogliono andare al ballottaggio per portare i fiorentini a votare due volte e tutti quanti sperano poi di poter trattare o condizionare per recuperare qualche poltrona in più. Penso che il modo con cui si può rispettare la volontà dei miei concittadini dei fiorentini è proprio quello di non frammentare il voto, di non disperdere il voto, di dare semmai forza, stabilità e compattezza al voto dei fiorentini. Io sono convinto che la mia città non vuole stare per i prossimi cinque anni all'opposizione di questo governo che finalmente sta cambiando le cose in Italia.